Il cibo è la voce più importante del budget della vacanza estiva in Italia, tanto che è diventato per molti turisti la principale motivazione del viaggio, anche grazie alle numerose iniziative di valorizzazione dalle sagre alle strade del vino. È quanto emerge da un'analisi di Col di Retti Puglia. Boom di consumi quindi di pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o souvenir enogastronomici in mercati feste sagre di pesce. Uno scenario che dimostra la centralità per la vacanza made in Italy del patrimonio enogastronomico nazionale, che è diffuso in tutto il territorio e dalla cui valorizzazione dipendono molte delle opportunità di sviluppo economico ed occupazionale. Da nord a sud, continua Col di Retti regionale, la Puglia può contare sui mercati contadini e fattorie di campagna mica, in cui il consumatore ha la possibilità di acquistare specialità locali a chilometro zero direttamente dai contadini. Una rete spiega l'associazione di categoria che salva dall'estinzione anche antichi prodotti come i sigilli di campagna mica, protetti nei piccoli borghi, che rappresentano storia, tradizione, ma anche economia e posti di lavoro. I sigilli infatti sono prodotti rari che posseggono caratteristiche assolutamente preziose, sapientemente protette contro l'omologazione e la valorizzazione grazie anche all'opera, l'entusiasmo e l'impegno delle giovani generazioni.